vai allora guardate oggi insieme all'amico franco e che bel gnocchetto il faggio regala emozioni fammi vedere cosa c'è qua di un po più guarda è un po di più andiamo a vedere oh che belli veramente guarda che spettacolo guarda franco bellissimi stupendi che profumo che hanno guarda e andiamo col secondo il fratellino e vai anche questo franco che gamba questo esagerato ragazzi a dopo a dopo allora franco cosa ci racconti ti racconto che oggi sono con massimo il faggio guardate un po che roba ma guardate mamma mia che bello franco sono esagerati facci sentire franco settimo mamma mia che fungo e poi non è finita ragazzi allora ricopriamo un attimino la peppa franco madonna bellissimo fungo questi mi sa che nei posti giusti si trovano grande grande ciao ciac si gira ecco massimo ancora guardate che fungo ragazzi guardate che fungo fresco bellissimo vabbè qui c'era il fratello adesso però vado a raccogliere quello che ho visto prima il fratello del tuo è ok allora sto ancora andando sì sì vado su andiamo a vedere fratello cos'è il cosino il parente non si sa ma c'è la famiglia veramente spero che mi sentiate perché oggi sono insieme a un grande amico è un grandissimo fungo aiolo guardate che bomba che ha trovato bello bello guardate che fungo veramente belle si via la storia continua ci aggiorniamo dopo direi che oggi se ne è che va bene è bello nero uno due stacca pure l'altro vai dedicato all'amico davide boni senti davide senti come suona oppa oppa la tac via ma no dai adesso ci rialziamo ciò che si vende le belle fette la friggere massimo in questo urca bello 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 sì anche questo track guardate un po' fantastico la storia continua aspetta che arrivo subito massimo contrattempo un bel gnocco andate qua ma che roba ma che roba questo c'è una gamba che beh ma cos'è sta galattico bellissima dai dopo ci diamo una pulita chiudiamo i buchi franco guarda che ce n'è un altro va bene hai trovato quegli altri due qua cosa c'è massimo guarda qui franco qui c'è lo zio di tutti guardate ragazzi guardate ma che bello madonna fammi sentire dai stacca senti franco esagerato guarda che bello fantastico ciao ragazzi guardate qua con mio amico franco dove siamo andati allora questo è uno spettacolo puro a basso tenetevi forte perché questo chiuderà il video di oggi ragazzi no ma vi rendete conto e non è tutto eh vi rendete conto massimo solleva un attimino saluto anche l'amico massimo martani eh eh si qua ci vuole ragazzi ma che sberla che gnocco guarda eh che tamburo volete sentirlo? mamma mia ragazzi guarda che mostro fa vedere la gamba guardate gira un attimo ma donna che gigante ragazzi guardate ragazzi paura una cosa impressionante che spettacolo spettacolari ascolta allora tienili un secondo facciamolo così eh no ma guardate che roba raga adesso ci parte qui c'è sotto un uccello qui spinge che fa paura eh ragazzi qui si viene tra 3-4 giorni c'è ancora ah lì e via bello ma questo qua è un chilo eh ah si gira un attimo che chiudiamo guarda ciao